Sul tema degli interventi sui beni culturali la Fondazione ha fatto un grosso ragionamento, anche in questo caso ha comunque cercato di innovare il suo percorso e quindi non sostenere il restauro in quanto tale, ma soprattutto stimolare i detentori dei beni, le persone che si devono prendere cura di questo immenso patrimonio, a fare un ragionamento anche di prevenzione, di cura continua, di seguire il bene nella sua storia e nella sua conservazione continua al fine di non disperdere tutto questo patrimonio e di non dover intervenire poi con interventi molto impegnativi sia dal punto di vista dei costi sia dal punto di vista proprio dell'intervento strutturale in quanto tale. Da piccola volevo spolverare i monumenti e questo era un desiderio strano per una bambina, ma mi incuriosiva il fatto di vedere appunto delle opere, vedere i restauratori che lavoravano sugli edifici. Ho sempre voluto fare questo tipo di attività di occuparmi degli edifici antichi, di occuparmi di tutto ciò che era apparentemente vecchio. Dare in fondo voce a quelli che sono monumenti muti, alle pietre, quindi stare lì, guardarli, toccarli. Questa idea della cura, del prendersi a cuore di un edificio, è quello che poi ho trovato proprio concomitante nel progetto poi della Carico. L'approccio abituale che è stato comunque utilizzato fino agli anni 2000 è installare un grande ponteggio. Questo ponteggio permetteva di andare a pulire, andare a ristilare i giunti, a fare queste cose. Oneri esagerati appunto perché comunque questo ponteggio mi erano costate, anche da una verifica che avevo fatto, almeno più della metà del costo complessivo dell'opera e questo è un aspetto molto importante. E cosa capitava? Che dopo un anno non si guardava più la struttura e le problematiche che comunque si rinnovavano. Non c'erano più fondi e questo era un danno perché un intervento fatto sporadicamente va contro anche i principi della conservazione. Eccoci. Pronti. Quindi qui l'idea di iniziare un tipo di percorso un po' diverso, sempre in coerenza con quello che era un po' la direzione che stava prendendo anche la regione Lombardia con un programma di conservazione programmata che era stato nel frattempo proposto. Il fatto che la Fondazione Cariclo come primo bando avesse proprio indicato la necessità di procedere ad un programma di conservazione programmata ha aiutato proprio, ha dato sbocco al mio lavoro di dottorato. Lavoro che non si è limitato semplicemente quindi a fare un progetto di intervento e a una programmazione astratta attraverso la Fondazione ho avuto l'occasione di avere un incarico effettivamente per cui man mano la mia tesi aveva un riscontro reale. Il lavoro scorda ci facilita per un intervento molto diretto esclusivamente sui punti dove effettivamente c'è il problema. In questa zona è stata passata un po' di diserbante in modo che si è seccata l'erba e adesso siamo sulla fase di rimuovere tutta quella parte secca. Quando si inizia un cantiere di conservazione programmata come questo quindi utilizzando le corde io mi trovo di fronte comunque a una situazione dove non ho un degrado generalizzato dappertutto e si rende inutile pensare di fare un ponteggio per solo rimuovere questa piccola porzione e naturalmente questa è una forma di economicità che dobbiamo portare avanti. È un'esperienza sicuramente nuova e abbastanza innovativa perché vuol dire approcciarsi anche al costruito in un modo molto più partecipato. Bisogna avere un po' di coraggio, un po' di sfida, un po' di originalità, non avere paura del vuoto. Questa zona che viene chiamata la Riviera dei Castelli e la riconoscibilità di questo territorio per la presenza di questi siti che tuttavia con difficoltà vengono percepiti dalla collettività. Cioè godiamo della bellezza di queste presenze ma è una contraddizione che ci siano poche figure professionali che si dedichino a questo tipo di attività su corda. Parliamo di edifici che pur essendo statici sono in continua evoluzione perché sono nello spazio nell'ambiente per cui sono soggetti alle intemperie, sono soggetti alla crescita della vegetazione, sono soggetti a tutta una serie di dinamicità che vanno governate. I castelli sono rimasti, stanno e staranno. Le urgenze, le contingenze invece sono esigenze a cui rispondere nell'immediato, spolverare i monumenti.